il treno regionale 59 21 di trenitalia proveniente da bassano del grappa e diretto a padova delle ore 6 e 48 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 59 22 di trenitalia proveniente da padova e diretto a bassano del grappa delle ore 7 13 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 11 0 5 9 di trenitalia proveniente da primolano e diretto a padova delle ore 6 e 33 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 11 0 8 1 di trenitalia proveniente da grigno e diretto a padova delle ore 7 e 33 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 58 43 di trenitalia proveniente da trento e diretto a padova delle ore 14 e 33 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 58 40 di trenitalia proveniente da padova e diretto a trento delle ore 14 56 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a bassano del grappa solagna san nazario carpa nebal stagna san marino cismon del grappa primolano tezze di grigno grigno strigno borgo val sugana est borgo val sugana centro roncegno bagni marter levico caldonazzo calceranica san cristoforo al lago ischia pergine povo di lazano trento san bartolameo trento santa chiara